Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Caterina e oggi siamo qui con una nuova collaborazione. Oggi vi parlo di L'Antom. L'Antom è un'azienda che si occupa di creme, saponi, di oli, di sieri, di tutto e di più per la cura della nostra persona, perché comunque è sempre importante prendersi cura di noi stessi. L'Antom mi ha inviato un pacco con ben tre prodotti della loro linea e io ora sono qui per mostrarveli. Il primo prodotto che mi ha inviato L'Antom, preciso, mi ha inviato tutti i prodotti della linea turmeric, che è la linea a base di curcuma. Infatti ha un odore veramente buono. Il primo è questo saponetto, tra l'altro grossissimo, for face and body, quindi per faccia e corpo, con la curcuma. Ha un odore, già da fuori si sente buonissimo, veramente. Vi leggo cosa c'è all'interno, possiamo trovare il cocco, l'olio di palma, le vitamine, i ginger power, i ginger extract e ovviamente come base principale c'è appunto la curcuma. È veramente molto molto carina. Come secondo prodotto mi ha inviato questa crema per faccia, che appunto è questa qui, sempre della stessa linea, quindi sempre la linea alla curcuma. È appunto una crema per faccia. Adesso andiamo appunto a vedere il packaging. I grammi sono 50. Eccola qui, qua è come si presenta appunto la scatolina. Questo è il logo di L'Antom. Io poi naturalmente vi lascio nell'info box tutti i riferimenti per andare alla pagina di L'Antom. È rivenduto anche da Amazon comunque come brand e comunque c'è la sua pagina Instagram. Io ve la lascio in modo tale che potete andare a darci un'occhiata. Ora apriamo. Eccola qui. Eccola qui molto molto carina. Guardate, si presenta così. Il colore è appunto questo giallino qui. Buonissima. Eccola qui come si presenta la crema. Spero che in telecamera renda. Ed è giallina. Sì, l'odore è quello della curcuma. È veramente... ha un odore veramente buonissimo e... guardate qua. Spettacolare. È proprio spettacolare. Ecco. E questa è appunto una crema faccia. Quindi mi ha mandato il sapone per corpo e faccia. La crema faccia. E come ultimo elemento mi ha mandato l'olio. Sempre della stessa linea, la curcuma. Sempre di L'Antom. Con il logo L'Antom. E questo ha la formula antiossidante. La stessa cosa. Andiamo ad aprirlo. Qui spero che in telecamera renda. Ha la goccetta tipo di un siero. Quindi c'ha ovviamente se noi andiamo ad aprirlo. C'ha il contagocce. Che voi ovviamente dovete mettere sul viso e poi stendere bene. Questa è la boccetta molto molto carina. L'odore è sempre quello della curcuma. Quindi a me piace veramente la curcuma. Vi consiglio veramente di andare a vedere questo... questa linea. E c'è scritto che idrata e pulisce la faccia. E praticamente dovrebbe andare a coprire tutti i difetti del viso. Quindi qualora ci siano di brufoli, qualora ci siano di punti neri. Questo dovrebbe coprirli. Deve essere usato più volte, ovviamente durante il corso della settimana. E veramente è molto carino. Molto molto. Quindi ricapitolando, mi ha inviato questa crema, la curcuma, questo olio, così, e questo sapone. Io veramente ringrazio L'Antom per questa possibilità che mi ha dato di parlare dei loro prodotti e di farvi riconoscere. Spero che vi sia piaciuto. Vi consiglio di mettermi un bel pollice in su e di iscrivervi al canale e sostenermi per far sì che queste collaborazioni continuino e che io vi possa portare nuove recensioni su nuovi prodotti. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!